Musica Ed ecco la mazucca romagnola col tipico salterello Qui si vede la valentia dei ballerini Coppia numero 11 eliminata, peccato Anche la numero 15 eliminata, pietatissima questa giuria Oh, senti un po' freddi Com'è che hai fatto a farti dare permesso da quella mostra là della King Kong? L'ho convinta Che uomo Peccato anche la coppia formata dal piruetta di Purlì e la sua gentile Fine della prima maz, dieci minuti per il ristoro dei ballerini e il cambio degli abiti Ed ecco la mazucca romana